Presidente, l'UBI chiede più assessori per annacidia o un rimpasto? Sì, ho già detto che quando passerà un anno, cioè a marzo, faremo tagliando la giunta, l'ho detto sei mesi fa, lo confermo, per vedere come sono andate le cose, per valutare l'operato di tutti e quello sarà il momento, per tener conto delle richieste che vengono dalla mia maggioranza, ma non ci sono problemi né tensioni. L'intervento ieri di scuola in Consiglio, è stato letto anche un richiamo alla regione sui temi dell'immigrazione? No, l'avete letto voi, nel suo intervento ha durato moltissimo, ha fatto un brevissimo passaggio su questo, ma ha parlato di tantissime altre cose e voi maliziosamente parlate solo di questo piccolo breve passaggio. Lombardia è la regione che ha il maggior numero di immigrati in Italia, è la regione che integra meglio di chiunque altro e quindi non vedo francamente problemi. Le politiche di integrazione ci sono e sono legate al mondo del lavoro. La posizione che noi sosteniamo è questa, chiunque può venire si ha un regolare contratto di lavoro, perché il lavoro è il primo veicolo di integrazione. Cosa ne pensa dell'investimento nel fondo del Kuwait? L'ETA ha detto che si irà a rilanciare le imprese. Tutto ciò che è un investimento è utile, noi abbiamo l'ambizione come Lombardia di entrare investimenti in investimenti veri. Se però il risultato del viaggio di Letta è quello di far entrare in Alitalia una società che poi chiude e malpensa, perché questo mi pare di capire sono le intenzioni, da parte nostra ci sarà la guerra. Io ho avuto ieri il mandato dal Consiglio regionale di chiedere un incontro urgente con il governo proprio su questi temi, il sistema aeroportuale Lombardo. Oggi e domani sarò a Roma e mi attiverò subito, perché può essere un'opportunità certamente, ma è anche un rischio dalle voci che si sentono. Io voglio capire se questi investimenti comportano un rischio per la Lombardia, per Malpensa, per il sistema aeroportuale e per l'indotto in termini di occupazione. C'è il tema che venga svuotato per esempio il collegamento anche su Linate? Ci sono manovre in corso che rischiano di penalizzare fortemente Malpensa o addirittura di farla chiudere, di renderla inutile. Queste manovre che vengono dagli ambienti di Alitalia io voglio sventarle, sono assolutamente determinate.